Da quando il Covid è entrato nel racconto delle vicende giallorosse è diventato superfluo parlare di uomini di disposizione in campo, di tattiche. E lo è ancora di più oggi al termine di una gara che il Catanzaro ha vinto 2-0 contro il Catani al netto di tutti quelli che erano i pronostici della vigilia. Spesso si usano dei termini come squadra eroica, squadra che fa dei miracoli sportivi. Non è sicuramente questo il caso perché il Catanzaro ancora non ha vinto nulla, però è proprio al termine di gare come queste che non è la prima volta che capita di vedere delle prestazioni simili che ci si rende conto veramente della forza di una squadra, della grinta, della volontà, del cuore. Il Catanzaro-Catania, come abbiamo detto, è finita 2-0 e il risultato finale forse non racconta tutto quello che è avvenuto nel corso dei 90 minuti più recupero. Il Catanzaro, sapete, in grandissima emergenza di uomini causa Covid, ha recuperato il solo Martinelli schierato al centro della difesa, una gara attenta, giocata sul filo dell'attenzione e della tensione. Poi, come è capitato spesso durante questa stagione, nel secondo tempo, nonostante le difficoltà, il Catanzaro è uscito fuori e con due gol veramente da antologia ha chiuso la pratica Catania e guarda con rinnovato entusiasmo ed ottimismo a queste ultime gare del campionato. Per raccontare quello che è successo però qui al Ceravolo con me, come sempre, Ferdinando Capicotto. Che gara è stata, Ferdinando? È stata una gara veramente non adatta ai deboli di cuore perché comunque il Catanzaro era pieno di assenze. Il Catania era una squadra che veniva a quel Ceravolo da quattro vittorie consecutive. Certo, gli avversari che aveva affrontato, al di là dell'Avellino, non erano di certo a livello dei giallorossi e il Catania si è sciolto, mi viene da dire come neve al sole, di fronte ad una squadra che in casa e soprattutto di fronte alle difficoltà tira fuori un carattere forse da squadra di categoria superiore, non per niente qui a Catanzaro hanno perso Ternana con l'unica sconfitta dei promossi in Serie B, una squadra come il Bari. Il Catanzaro che si è visto oggi non è tanto differente da quello appunto che abbiamo visto in queste partite oppure mi viene in mente anche quella contro il Teramo. Nel girone d'andata, vittoria credo meritatissima da parte dei giallorossi, al di là poi di quelle che possono essere le occasioni da rete perché probabilmente i due portieri non avranno i guantoni nemmeno sporchi al termine di questa partita però poi se una squadra come il Catania che ha un attacco dove probabilmente i giocatori sarebbero titolari dovunque non tira mai in porta qui a Catanzaro è innanzitutto frutto di una grandissima difesa di una squadra che comunque sia compatta, devota al sacrificio e poi è brava a sfruttare le occasioni che capitano il primo gol, il primo gol è un gol, è praticamente la fotocopia del gol che fece Giaccherini nel 2016 agli europei contro il Belgio con un lancio di Martinelli in perfetto silo e bonucci e poi il secondo gol è un capolavoro frutto di Evacuo, dell'esperienza di Evacuo, di Baldassini che è stato bravo a crederci però questa vittoria è l'ennesima vittoria del Catanzaro Torgato Calabro di una squadra che ci crede fino alla fine nonostante quelle difficoltà porta sempre, getta sempre il cuore oltre l'ostacolo Hai citato Calabro e allora nel racconto di questo calcio senza pubblico qualche chicca la possiamo raccontare noi che siamo presenti Calabro era squalificato come saprete e ha visto, ha seguito con compassione e con intensità la partita dal settore distinti dando in continuazione indicazione ai suoi nonostante anche il secondo Villa che sedeva in panchino al posto di Calabro ha seguito gli insegnamenti del mister chiedendo sempre attenzione ai suoi attenzione che è stata ripagata con un primo tempo molto equilibrato dove il Catanzaro era partito subito forte il Catania poi era uscito riuscendo a prendere soprattutto il centrocampo perché è lì che il Catanzaro aveva le maggiori difficoltà abbiamo detto all'inizio che non avremmo parlato dei singoli e che spesso diventa superfluo parlarne però veramente due parole per questi ragazzi bisogna spenderle un'altra grandissima prestazione di Pierno dopo quella contro il Bisceie bene benissimo anche Gatti chiamato oggi a svolgere un ruolo leggermente diverso diciamo sulla linea del centrocampo degli esterni e poi un di massimo sontuoso lì in mezzo al campo insieme a Risole e Baldassin ha letteralmente scompaginato ad un certo punto specialmente nella ripresa le dinamiche di gioco riuscendo poi a finalizzare come hai detto tu quel lancio millimetrico di Martinelli ma in generale è stata una grandissima prestazione da parte di questi uomini e da parte del collettivo collettivo che ancora una volta dimostra di essere compatto ormai c'è questo bellissimo rito post partita con il cerchio in mezzo al campo e tutti ad esultare per una vittoria che non era per niente scontata assolutamente poi sarà strano perché il Catanzaro è una piazza caldissima con un pubblico in grado di fare il dodicesimo uomo in campo nella stagione senza spettatori 39 punti in casa tutto di 12 vittorie e tre pareggi con due sconfitte anche abbastanza ambigue per come sono venute quindi è una squadra che ancora di più si è unita e ha fatto gruppo perché il Catanzaro ancora prima di essere una squadra è un gruppo cioè è citato Di Massimo c'è un giocatore come Di Massimo che fa all'interno di centrocampo lo vede centrocampo lo vedi regista lo vedi lo vedi punta lo vedi attaccare lo spazio lo vedi terzino cioè poi se poi capitano qualche errori a livello tecnico cioè ci possono pure stare si possono pure perdonare Gatti che ha fatto il terzino sinistro cioè rendiamoci conto pure di Pierma che di fronte non aveva altra volta aveva Giron che non era l'ultimo arrivato stavolta aveva Russotto, Reginaldo giocatori comunque sia anche di forse di una categoria superiore eppure non si è notata nemmeno la differenza quindi è un Catanzaro che anche oggi ha dimostrato le sue qualità è un Catanzaro sicuramente che con questa vittoria riesce probabilmente a staccare in maniera definitiva il Catania ancora invece in scia la Juve Stabia che ha vinto 3 a 2 contro contro la Casertana e mercoledì probabilmente ci si giocherà tantissimo proprio in chiave terzo posto ma forse anche in chiave secondo posto perché lì è ancora tutto tutto aperto ma senza volare senza fare troppi voli pindarici la realtà è che questo Catanzaro c'è, ha dimostrato di essere presente, ha dimostrato di voler a tutti i costi chiudere alla grande questo campionato c'è un'altra sfida importante, l'abbiamo già detto, mercoledì a Castellammare si recupererà la gara che non era stata giocata settimana scorsa noi come sempre vi racconteremo quello che accadrà in casa giallorossa per il momento ci godiamo questa ennesima grande prestazione, questa bellissima vittoria dei giallorossi augurandovi una buona domenica in attesa poi di tornare ad entusiasmarci ancora con i colori giallorossi grazie grazie